Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, nuovo volo con il Mavic Air. Oggi siamo a Borghetto, una frazione di Valleggio sul Mincio, provincia di Verona, un posto affascinantissimo e curiosissimo, un borghetto piccolo, cioè veramente veramente piccolo ma veramente particolare. Adesso lo sorvoliamo col Mavic e vi voglio far vedere che figata che è questo piccolo borgo in provincia di Verona. Grazie a tutti. 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 E ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.